Al volo! Allora, io credo che il tema del rispetto della legalità sia un tema trasversale sulla città perché il rispetto alle regole è anche il funzionamento dei servizi pubblici, il governo dei beni pubblici e quindi il tema delle mafie purtroppo hanno assunto una dimensione come infiltrazione in questa città enorme credo che sia un tema, al di là delle competenze dei soggetti politici, un tema che tutto il personale politico deve affrontare e tenere in considerazione quotidianamente nel lavoro che svolge quindi è importantissimo dare risalto e presenziare, essere presenti a queste iniziative perché è una tematica a cui non possiamo non considerarla tutti i giorni e non affrontarla tutti i giorni perché invece le mafie si muovono e abbiamo visto dagli ultimi rapporti che stanno continuando a investire una serie di proventi anche nella città di Roma in attività che all'apparenza sembrano attività assolutamente legali e normali.